Buongiorno a tutti, voglio iniziare questa video analisi con un ringraziamento. Ringrazio tutti perché la community è arrivata a oltre 2000 trader, quindi il circolo virtuoso che ho in mente, quello per cui tutti gli attori guadagnano dalla relazione, si sta finalmente realizzando davanti ai miei occhi. Quindi, se un trader è un analista quantitativo, infatti, condivide le sue conoscenze per introdurre le persone a illustrare come si muovono i mercati, anche bitcoin, e ciò paga per tutti, perché si può guadagnare dalle analisi che vengono fatte, ci si guadagna tutti, sia la persona che lo fa, per cui l'intento è, come quando lavoravo in banca, aiutare le persone a non farsi fregare in primis, illustrare come si muovono i mercati per evitare soprattutto che si perdano dei soldi. E seconda cosa, chi ha la volontà di imparare capisce che grazie alla formazione costante e continua si può guadagnare molto bene e si può soprattutto evitare di farsi fregare dagli altri, o dai mercati, o da false credenze che possiamo vedere tutti i giorni comunicate sui TG economici piuttosto che da operatori che non sanno effettivamente come si muovono i mercati e che magari ragionano di webinar continui che iniziano gratis e poi invece diventano a pagamento. Pagare un professionista è corretto. Avessi saputo all'epoca che avrei potuto arrivare più rapidamente a un livello come questo avrei pagato fiofio di soldi per arrivarci in meno tempo sicuramente ma ognuno la sua. Si può iniziare dai libri, si possono vedere dei video. Bisogna sempre però scegliere una persona in gamba e con questo finisco con i ringraziamenti. Allora, torniamo a noi. Siamo su un bisettimanale che è arrivato a 14 giorni su in media 16. Eccoci qua. primo t settimanale secondo t settimanale che come vedete hanno una forma diversa. Il primo ha una forte spinta rialzo il secondo anche arrivato alla quinta candela non ha fatto la strada che ha fatto questo. Questo per quale motivo? Per il fatto che più si spinge verso l'alto e più i volumi in acquisto a un certo punto anche lasciano strada a una discesa. gli HFT funzionano così. Se dovessero mettere tutti i soldi in un unico trade ci troveremo con delle candele che non si possono gestire e ci aspetteremo poi soltanto discesa perché per guadagnare dopo aver acquistato a prezzi bassi e comprato tutti i book a un certo punto però bisogna anche vendere e quindi sarebbe molto più semplice leggere il mercato invece utilizzano delle tecniche interessanti. Il secondo T settimanale è salito per 5 giorni e può durare come minimo 6 che vincolo abbiamo sul T più 1 perché vada in chiusura sul ciclo bisettimanale? Abbiamo bisogno che per almeno 24 più 24 48 barre da 45 minuti si scenda ci sia almeno un T meno 2 un ciclo a 2 giorni ribassista perché un T più 1 come da video trading days e come sapete ormai già se avete ricevuto le dispense gratuite chiude con un sottociclo di 3 ad inferiori ribassista ovvero T più 1 meno 3 cicli inferiori T meno 2 ovvero un ciclo a 2 giorni per cui come per ora state vedendo la candela assomiglia a un emmer è rossa e può appartenere al raccordo questa? in questo momento sappiamo che è un raccordo inverso che si può collocare tra un mensile inverso e un nuovo mensile inverso seguendo la regola del meno 3 gradi può al massimo durare 5 giorni quindi può essere durato da qui a qui sulle candele giornaliere come vi ho illustrato nei precedenti video e vi suggerisco sempre di andare a rivedere però oggi si potrebbe avere un top ancora assoluto con una candela che poi si svuota ritorna rossa e diventa una doji una shooting star un emmer rimane tale e prelude a una discesa una discesa che dovrebbe far partire appunto un nuovo tipico inverso altrimenti l'ipotesi andrebbe a cadere anche se facendo trading fino ad adesso o acquistando bitcoin fino ad adesso sull'egida e sulla spinta dell'analisi abbiamo guadagnato? la risposta è sì ok? per cui di indice siamo arrivati quasi a una durata minima per iniziare a scendere per due giorni o almeno 8.2 arrivassista per chiudere il nostro bisettimanale sull'inverso bisogna vedere questa candela che cosa vorrà fare scendiamo su 45 minuti che è il time frame di mia idea di azione per seguire appunto questo genere di trade che cosa vediamo? abbiamo che il raccordo è partito da qui da questo massimo il raccordo inverso e può essere ancora in essere? in realtà sì perché nonostante le 5 candele giornaliere appunto si può arrivare appunto a una shooting star e quindi si può ancora tornare sui massimi prima di andare effettivamente e poi a scendere perché dovremmo tornare sui massimi? perché il raccordo è fatto da 1 2 3 4 e potenzialmente 5 t-3 inversi durata massima di un t-1 inverso e quindi e quindi guardiamo qui da qui a qui abbiamo avuto il nostro quarto t-3 inverso difficile che si sia andati oltre perché non abbiamo avuto un massimo superiore a questo qua a questa candela rossa qua a 57.821 le altre sono tutte state inferiori infatti ho messo 57.821 ok tutte le altre sono state inferiori ho messo un allarme per sicurezza un allarme perché? perché se torneremo sopra questo livello e non riusciremo a bucare la media mobile a 50 periodi nel rosso faremo il nostro quinto t-3 inverso appartenente sempre al nostro t-1 inverso al ciclo a 5 giorni in media 4 inverso e poi inizieremo a scendere se invece non andremo più sopra questo massimo a 57.821 questo non sarà più da considerare come il quinto t-3 inverso con un punto di domanda ma sarà il nuovo t-3 inverso che può dare inizio appunto a un nuovo t-2 inverso mensile con spinta verso il basso peraltro se siete andati a vedere le precedenti analisi che inquadrano meglio ancora la situazione e vi suggerisco di farlo e di riascoltare le vere volte se volete imparare l'evoluta questo è lo swing a 54.363 dollari che ci dirà se partirà almeno un nuovo t-inverso un nuovo settimanale inverso o anche qualche cosa di più quindi se una candela rossa ci facesse piombare qui sotto noi avremmo una valida conferma attenzione che però gli swing si spostano nel tempo più creo massimi e minimi e più a un certo punto dovrò spostarlo anche perché gli swing possono darci tante informazioni su come può procedere l'andamento di bitcoin o di qualsiasi indice andate a rivedere l'analisi su DAX di ieri segnalavo dove era lo swing che ci diceva dove partiva un nuovo ciclo inverso con spinta ribasso ieri abbiamo violato quello swing sono seguiti i volumi eravamo nella tempistica ciclica corretta oggi ci siamo svegliati con un bel meno siamo andati a toccare un supporto importante e siamo ribalzati chi è rimasto short e si è visto magari anche l'analisi di questa mattina ha incassato dei bei soldi e adesso aspetta la prossima analisi per cui è importante che vi segnate con degli allarmi vi segnate con degli allarmi questi swing e che li aggiornate eventualmente perché saprete più rapidamente che cosa può succedere al mercato quindi facciamo un riassunto della situazione se andremo sopra chiuderemo raccordo inverso arriveremo fino alla massima sua estensione ed è ragionevolissimo con un trend volumetrico di questo genere a rialzo riguardisco bitcoin è molto ben improntato a rialzo e poi solo dopo scenderemo quanto tempo abbiamo minimo so che vi piace questa cosa e minimo in realtà qui potremmo averlo chiuso no minimo 24 barre da 45 minuti ed eccoci qua che arriviamo alle 14 45 di oggi minimo per riuscire ad andare su in media 32 quindi arriveremo alle 20 45 di stasera al massimo 44 non sto a farvelo vedere ma se in questo tempo inizieremo già a violare questo swing a 56 440 dollari io inizierò a fare attenzione perché perché questo swing ci dice che il quinto t-3 si vincola a ribasso e quindi può continuare ad aggiornare i minimi a scendere e quanto è arrivato a fare come tempo ciclico il nostro quinto t-3 è arrivato a 10 barre su minimo come al solito come per l'inverso 24 arriviamo a 24 barre quindi se si andasse sotto questo swing segnatevelo bene prima delle 24 barre sapremmo che si potrebbe scendere fino a 24 quindi fino alle 23 di questa sera o in media 32 o al massimo 44 per cui l'altro allarmino da mettere è proprio qua a 56 440 dollari direi di avervi dato tutto sono molto felice che stia seguendo un passaparola ai guadagni che avete raggiunto gratuitamente distribuisco sempre gratuitamente anche delle dispense per cui se siete interessati mandatemi una mail e le riceverete con un po' di ritardo perché le richieste sono tantissime auguro a tutti una splendida giornata arrivederci